La Fondazione Petruzzelli ringrazia e lo fa per bocca del suo sovrintendente Gian Domenico Vaccari, ringrazia il sindaco di Bari Michele Emiliano nonché presidente della Fondazione Lirico Sinfonica che ha conferito due prestigiosi immobili del centro storico Palazzo San Michele e Palazzo San Gaetano. Vaccari ringrazia anche il presidente della giunta regionale Vendola per l'incremento del contributo ordinario per il 2001, non ringrazia il presidente della provincia Schittulli che finora di fatto non ha dato un euro alla Fondazione. Questione di poltrone? Certo è che la lei libera, approvata in consiglio comunale da una maggioranza tutto sommato compatta, regala beni immobili per oltre 2 milioni di euro alla Fondazione. Serviranno? Quindi per far sì che la stessa possa ottenere finanziamenti finalizzati anche alla ristrutturazione degli stessi palazzi da effettuarsi entro il 2018, altrimenti dovranno essere restituiti. Palazzo San Gaetano, come si vede, non versa in ottime condizioni e soprattutto rientrava nel piano delle alienazioni allegato al bilancio di previsione 2010. Il Comune avrebbe ricavato 800 mila euro. E questo è Palazzo San Michele in strada San Benedetto, valore 1 milione 200 mila euro da oggi e patrimonio della Fondazione Petruzzelli. Con questa delibera, definita dal centrodestra illegittima e carente, la Fondazione evita fra l'altro il commissariamento. Infatti la legge sulle fondazioni prevede che il CDA viene sciolto se due esercizi consecutivi chiudono in rosso.